start da erbe via rilegone qui parcheggio con sistema gratta e sosta gratta e sosta acquistabile nella trattoria davanti al parcheggio sempre dritto per il sentiero seguiamo le indicazioni per il ristoro a destra ok qui stiamo a destra il ristoro Grazie Rifugio Alpinissi Montesi a sinistra Sempre dritto A sinistra Seguiamo a destra in salita Ed eccoci finalmente in vista del rifugio Che bello Vedi che ci hai fatto anche te Sì 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 Adesso rientriamo in tempo per non prendere il temporale Per il rientro ripercorriamo il sentiero San Carlo a sinistra quello facile Sì 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 Sì